Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina! In questo video torniamo a parlare di smartphone, di cambio del telefono e parliamo di memoria intesa come spazio di archiviazione perché ogni tanto il nostro telefono ci dice che ha la memoria piena. Quello è un guaio perché il tuo telefono in quelle condizioni non sta funzionando come dovrebbe. Certe cose smette di farle perché non ha più spazio per farle. Quindi ti devi preoccupare. Come risolvo il problema della memoria piena? E soprattutto per sapere come risolverlo, come funziona il discorso della memoria in modo che così mi so regolare? Allora innanzitutto il tuo telefono deve avere una adeguata quantità di memoria. Un'adeguata quantità di memoria legata ai tempi nel senso che se il tuo telefono ha 5, 6, 10 anni fa è ovvio che non ha la stessa memoria dei telefoni di oggi. come prima cosa e soprattutto deve essere un'adeguata quantità di memoria per il tuo uso. Come lo usi questo telefono? Fai tante foto, fai tanti video e allora ti serve già un telefono con tante memoria. Quindi prima di tutto quando compri un telefono ti interessa la caratteristica tecnica dello spazio di archiviazione. quanto ce n'è, perché più ce n'è e migliore sarà il telefono. Quindi questo a prescindere dall'aspetto, dai costi e tutto quanto, se ha tanto spazio di archiviazione per te è un vantaggio. Andiamo però a vedere adesso il nostro telefono e cerchiamo di capire cosa abbiamo per le mani e come possiamo regolarci in tal senso. se ti dice che la memoria è piena è già tardi, dovrai fare qualcosa per forza, se invece non ti ha mai detto niente, bene, però gestiamola questa memoria perché non è detto che la situazione non si presenti in un prossimo futuro. Quindi io sono sul mio smartphone, questo è un Android 13 e quindi più o meno tutti i telefoni si assomigliano in tal senso, vado in impostazioni e dentro impostazioni tra i vari comandi trovo spazio di archiviazione. Qui c'è proprio scritto spazio di archiviazione, magari nel telefono della tua marca c'è una voce diversa, però cerca archiviazione o qualcosa di simile. Se io ci premo sopra vedo quanto spazio ho a disposizione, in questo caso su questo telefono 256 GB, che è uno spazio adeguato per i tempi moderni, è abbastanza grande, diciamo adeguato grande questo spazio, e ne ho occupato il 31%, usato circa 80 GB, 79,50. Quindi ho ancora tanto spazio e questo telefono lo uso anche per fare i video e quindi nel telefono ci sono anche dei video, per cui c'è spazio comodo. Che cosa occupa spazio nel mio telefono? Perché se ho poco spazio e devo pulire, devo capire da che cosa è occupato quello spazio. Principalmente lo spazio solitamente è occupato da foto e video, perché sono le cose che occupano di più. In questo caso io dei miei 80 GB, dei miei 79 GB, ne ho occupati 45 in video, video e foto, diciamolo così. Quindi quelle, se io le tolgo, se le metto da un'altra parte, se le mando sulla nuvola, ecco lì che ho liberato spazio. Quindi di solito hai bisogno di liberare spazio? Benissimo. Sposta, cancella foto e video, perché quello ti dà subito lo spazio che ti mancava. Quindi prima soluzione è quella. Tra le foto e i video ci sono anche quelle di WhatsApp. La maggior parte di noi ha i telefoni pieni di immaginine e sciocchezze che ci inviamo via WhatsApp quotidianamente e quindi quelle occupano spazio sia quando le ricevi, li guardi, le ricevi, li tieni lì, sia quando le invii. Aspetta che la mando anch'io al mio invito a questa scenetta, eccetera. Occupa spazio nel tuo telefono due volte. Quindi prima di cancellare foto e video, fai fuori le chat di WhatsApp. Cancella i media delle chat di WhatsApp, di quelle sciocche, quindi tutte quelle foto lì inutili, avrai subito spazio nel tuo telefono. Tieni presente che se lo fai di volta in volta, vedi la scenetta, che bella, e poi la cancelli, è meglio che non trovarsi col telefono pieno e dire adesso di tutti i miliardi di chat che ho, cosa cancello? Perché non sono sicuro di svuotare completamente la chat senza perdere tutto. Quindi è importante avere la mentalità di farlo mano a mano. mai arrivare alla condizione di memoria piena, ma soprattutto tenere pulito il tuo telefono man mano. Allora, quindi, i video occupano tanto per me. Le foto un po' meno. Eccole qua che sono divise in video e immagini. Un po' meno. Poi ci sono le app. Le app sono le applicazioni che tu installi nel tuo telefono. Metto una nuova app, eccola qui, metto un'altra app e la uso, metto un'altra app, quelle occupano spazio. Ma non occupano spazio in sé quando le metti, perché in definitiva non sono mai grandissime queste app. Occupano spazio quando le usi. Ci sono applicazioni che si ingrandiscono, stando all'interno del tuo telefono, con l'uso e con tutti gli aggiornamenti che ricevono. Riceviamo un sacco di aggiornamenti di app, questi occupano sempre un po' di spazio in più. Quindi app, ad esempio, come Facebook, che per la sua attività ha bisogno di immagazzinare informazioni, cose che ti servono, che le servono per funzionare, si gonfia e si ingrandisce e occupa tanto spazio. Quindi se tu usi tanto Facebook da tanto tempo, è probabile che l'app di Facebook occupi tanto spazio nel tuo telefono. Dico Facebook, ma sono tante le app che fanno questo. quindi potrebbe convenirti ogni tanto toglierla e rimetterla. In questo modo pulisci quello che occupava, si cancellano le cose inutili che per te sono inutili, servono a lei per funzionare. Dopodiché tu reinstalli l'applicazione, ultima versione, quindi aggiornata, senza tutti i vari aggiornamenti precedenti, ma soprattutto senza le varie cose che hai immagazzinato e che magari non servono più. Se dovessero servire, tanto se le riprende. Quindi anche pulire le app ogni tanto è importante. Il sistema invece è Android, quindi sul mio telefono c'è il sistema operativo Android 13 e occupa 15 GB e da lì non ci si può spostare. Quello è lo spazio occupato dal tuo sistema operativo. C'era già all'inizio, magari si è gonfiato un po' perché si è aggiornato, eccetera, eccetera, ma quello è. Se tu volessi avere una pulizia totale, dovresti formattare il telefono, quindi riportare il telefono alla impostazione di fabbrica e poi ricaricare le tue cose. Facendo quello ottieni la massima pulizia del tuo telefono perché si tolgono tutte le cose inutili e rimane solo quello che veramente ti serve per cui guadagni già dello spazio nel tuo telefono e ti togli dalla condizione di memoria piena. C'è il cestino da tenere vuoto, eccetera, e poi ci sono altre applicazioni, altre cose. Quasi tutti i telefoni hanno una funzione libera spazio, quindi se io premo su libera spazio lui mi può aiutare a pulire cose inutili nel mio telefono. Dico continua e arrivo in questa condizione qui e posso pulire il mio telefono. Di solito come libera spazio adesso si utilizza l'applicazione Files che mi sembra che sia anche questa. Quindi se io vado fuori e faccio scorrere e vado a cercare nel mio telefono l'applicazione Files, che è un'applicazione di Google, che hai già nel tuo telefono e che se non hai puoi installare tranquillamente, dentro Files, eccoci qua, infatti siamo arrivati nello stesso posto, trovi anche libera spazio da qualche parte. Io non lo uso da tempo, se faccio scorrere vediamo se trovo qualcosa che mi dica libera spazio. Qui non lo vedo, vado nelle righine, pulisci, eccolo qua, pulisci, premo e a questo punto mi dice che cosa posso fare per pulire. Fai attenzione, ecco qui, i file indesiderati li posso pulire tranquillamente, quindi questi li pulisco, cancello tutto, ok, e ho liberato 139 MB, pochissimo. Elimini i duplicati, sono le foto duplicate che magari per qualche motivo hai nel tuo telefono, ma andrei a lavorarci con calma su queste, nel senso che qualcosa ti sparisce se fai questo, gli screenshot anche, se li cancelli qualcosa ti sparisce e elimina i file di grandi dimensioni, anche no, ok, sì, se sai di cosa si tratta, ma i file di grandi dimensioni nel mio caso sono video, quindi se io elimino i file di grandi dimensioni ha libero spazio, ma sono i video che ho fatto, dei telefoni, eccetera, che magari ancora mi servono perché devo ancora utilizzarli, quindi file di grandi dimensioni non è automaticamente una cosa da buttare via, quindi al di là del pulisci i file inutili, quindi la prima voce che abbiamo trovato che adesso non c'è più, tutte le altre sarebbe meglio di no, quindi dobbiamo gestire il nostro telefono in altro modo, via le chat di Whatsapp, mano a mano le varie sciocchezze che riceviamo, le guardiamo, ridiamo e poi le buttiamo via e soprattutto magari puliamo le app, cancelliamo un'app, la rimettiamo, eccetera. C'è anche una funzione che si chiama svuota cache che di solito però dovrebbe fare diciamo la pulizia rapida del tuo telefono. Se non hai questa funzione tu prova, parti da Facebook, lo cancelli, lo rimetti e vedrai che hai più spazio nel tuo telefono, però dovrai rimettere la password, quindi devi sapere le password di tutti i tuoi account, quindi questa è un'operazione un po' rischiosa, tra virgolette, se non conosci le cose basilari del tuo telefono come gli account di utilizzo. Altra cosa è formattare completamente il telefono, rimetterlo in funzione, eccetera. Tieni presente che se il tuo telefono è un po' vecchiotto e ha poca memoria, sarà comunque poca memoria, nel senso che oggi per funzionare un telefono ha bisogno di un certo numero di spazio di archiviazione che per stare comodi, se lo compro nuovo, deve essere almeno 128 GB, sai che da 128 in su è tutto spazio in più che allunga anche la vita del telefono perché ci stanno più cose in definitiva. 64 funziona bene ma è già piccolo per un utilizzo normale del tuo telefono. In certe situazioni potresti dirti ma io il telefono ce l'ho, ha costato tanto, mi piace, ha poca memoria, ho pulito tutto ma ho comunque troppo poco spazio. Come facciamo a risolvere? Se il tuo telefono è uno di quelli abbastanza furbi come la maggior parte dei telefoni ha la possibilità di espandere la memoria con una scheda aggiuntiva e qui entrano in gioco i nostri telefoni quindi li andiamo a vedere. Questa è una scheda di memoria da macchina fotografica. In realtà questo è un adattatore per scheda di memoria. La scheda di memoria è questa, questa cosina qui che c'è dentro. Questa è una micro SD o mini SD è un'espansione di memoria è una memoria di per sé. la si usa nelle macchine fotografiche se hai l'adattatore o se la macchina fotografica prende direttamente questa schedina qui oppure nei telefoni. Non si usa tanto perché bisogna saperla usare perché non ha tanto senso meglio prendere un telefono con tanta memoria. Però se tu apri il cassetto delle SIM del tuo telefono quindi io adesso vado a aprire il cassetto delle SIM di questo telefono che presto ti mostrerò è un telefono nuovo eccolo qua troverai che il tuo cassetto delle SIM ha la possibilità di inserire le SIM una e due nel caso di questo telefono che è un dual SIM posso mettere due SIM e due numeri di telefono ma ha anche la possibilità di inserire una scheda di memoria quindi io posso andare ad inserire una scheda di memoria aggiuntiva vediamo se l'ho posizionata giusta tanto per fartela vedere correttamente allora dovrei metterla forse la devo mettere da dietro direi di sì dovrei metterla eccola qua così è posizionata giusta perfetto si incastra perfettamente questa è una scheda di memoria e se poi io vado a reinserire il carrello delle SIM con la scheda di memoria dentro il mio telefono ha più memoria è risolutiva questa cosa ni nel senso che c'è comunque da ragionarci ci diciamo due cose su questo discorso della memoria poi lo vedremo espressamente in un prossimo video quando tu aggiungi una scheda SD allora innanzitutto devi capire quale mettere e innanzitutto devi capire com'è il telefono questo telefono abbiamo visto che ha lo spazio per due SIM due numeri di telefono più la scheda di memoria ma perché questo è un telefono furbo la maggior parte dei telefoni ha lo spazio per due SIM e la scheda di memoria con la seconda SIM quindi o metti due SIM o metti una SIM e la scheda di espensione di memoria quindi se tu hai tassativamente bisogno di due SIM nel tuo telefono e il tuo telefono ha quel tipo di carrello che è quello della maggior parte dei telefoni che può portare le due SIM oppure una SIM e la scheda di memoria non puoi usare l'espansione perché lo spazio è già occupato dalle due SIM i telefoni un po' più furbi e questi due in realtà lo sono hanno lo spazio per la scheda di memoria a parte a prescindere dalle due SIM questi sono entrambi i telefoni che fanno foto di qualità e foto e video di qualità significa file più grandi quindi hanno bisogno di tanta memoria al loro interno ma anche della possibilità di poter montare una scheda di memoria a prescindere dalle due SIM perché così espando la potenzialità di immagazzinamento di questi due telefoni di solito la scheda SD serve appositamente per foto e video quando io la metto nel telefono lei poi immagazzina foto e video scattati da quel telefono e quindi libero lo spazio principale quindi il consumo maggiore di memoria solitamente è per foto e video e viene occupato su questa scheda SD lasciando la memoria libera del mio telefono tieni presente che se tu hai un telefono con la memoria piena e ci metti dentro la scheda SD ti trovi sempre il telefono con la memoria piena perché il tuo telefono adesso ha più memoria il problema è che tutte le informazioni sono sulla memoria del telefono e la scheda SD resta vuota quindi devi comunque lavorarci e nel prossimo video vedremo un po' come fare quindi è importante questo discorso che tanti risolvono la situazione dicendo ma metto una scheda di memoria e poi non risolvono niente in realtà perché la memoria resta comunque piena a meno che non sai cosa devi fare prima di comprare questa scheda SD devi tenere conto di due cose devi sapere quant'è la capienza massima che il tuo telefono può accettare come scheda SD nel senso che se tu ne comperi una troppo capiente rispetto a quella che è diciamo accettata dal tuo telefono lui non la vede ah ho comprato una scheda SD da 2 giga e il telefono non la vede è rotta cosa succede eccetera no semplicemente il tuo telefono è di 10 anni fa di 6 anni fa e allora le schede da 2 giga non esistevano e lui non la riconosce minimamente se il telefono è furbo accetta anche una scheda di memoria grande in questo caso questo lo è lo abbiamo già detto e quindi può caricare una scheda SD da 2 giga costano quindi c'è anche il rovescio della medaglia diciamo che 32 64 giga possono essere già una bella espansione di memoria per un telefono ogni tanto tirerai giù le foto o le manderai sulla nuvola non è che puoi pretendere di tenere tutta la tua vita dentro questa schedina SD altro discorso le schede SD non sono tutte uguali a parte la capienza differiscono tra loro anche per la velocità di funzionamento più sono veloci e più costano ovviamente però c'è proprio scritta la velocità di funzionamento quindi devi prenderne una veloce perché se il tuo telefono fa foto e video di qualità scoprirai che se gli metti una scheda SD un po' scarsa nel senso che poco veloce lui comunque non riuscirà ad usarla e tu ti dirai ma perché non funziona cosa devo fare eccetera lui ti dirà scheda SD non accessibile ma cosa devo fare eccetera eccetera semplicemente mettergliene una veloce a sufficienza quindi quando comperi la scheda SD se sei una persona che fa video che fa foto eccetera comperala di qualità dando un occhio alla velocità oltre che alla marca la capienza che desideri la marca che preferisci ma soprattutto una velocità adeguata che tradotta è la velocità maggiore che puoi acquistare con i soldi che hai intenzione di spendere perché altrimenti potrebbe non essere adeguata in ogni caso è meglio se sai anche qual è la capienza massima della scheda SD accettata dal tuo telefono altro discorso quando io ho riempito la mia scheda SD oppure ho il telefono e quindi tutte le mie cose sono finite qua dentro cambio telefono prendo la scheda SD e la metto nell'altro telefono che bello trasferisco tutte le cose no perché di solito il telefono nuovo quando tu infili una scheda SD la pulisce prima di poterla usare la prepara per se stesso quindi dico di solito non è una regola assoluta eccetera eccetera quindi ci può essere quel telefono che magari la accetta lo stesso ma è una buona cosa prendere la scheda SD tirarla fuori dal vecchio telefono passarla nel computer magari tramite un adattatore quindi passarla nel computer trasferire tutte le cose importanti che ci sono sopra foto e video sono importanti giusto? sì e quindi le sposti nel tuo computer e poi la scheda SD la trasferisci nel telefono nuovo magari vuota così è bella pulita il telefono nuovo la può utilizzare come si deve e quindi si parte così posso mettere le app sulla scheda SD solo foto e video ma il mio telefono è pieno ma è principalmente pieno di app non ho più foto quindi se io voglio espandere la memoria ci voglio mettere le app sopra posso metterle? sì e no dipende dal telefono dipende da cosa possiamo fare c'è un menu segreto a quale possiamo accedere e vedere se quel telefono mi dà la possibilità di usare la scheda SD come spazio di archiviazione per le app ma lo vediamo nel prossimo video quindi se ti è piaciuto il video qui sotto trovi il pollice in su per dire mi è piaciuto il video c'è il pulsante iscriviti per iscriverti al canale così magari vedi anche il prossimo video in cui utilizzeremo la scheda SD per l'archiviazione delle app e quindi per espandere a tutti gli effetti la memoria del tuo telefono e c'è il pulsante abbonati per sostenerci ma soprattutto per vedere i video della serie speciale riservata agli abbonati che sono già tantissimi sul nostro canale ci vediamo presto ciao ciao